Io sono Roberto Toro, lo chef del Grand Hotel Timeo di Taormina e chef del ristorante Otto Ghelling, una stella Michelin. Tortelli ripieni di basilico e pecorino con una salsa al riambero rosso di Mazzara e una crema all'insalata di pomodoro. Gli ingredienti sono diversi perché ho voluto toccare diversi punti della Sicilia. Dal pecorino DOP al ciliegino IGP al gambero rosso di Mazzara. È particolare perché la coltivazione di questa qualità di pomodoro è in riva al mare e dà quella salinità e quel gusto organolettico che va a compensare poi l'equilibrio del piatto. Il ripieno è fatto di basilico, pecorino, pinoli. La pasta è una classica pasta all'uovo. La salsa del gambero rosso è estratta dalle teste del gambero. La crema di pomodoro è una classica insalata di pomodoro con cipolla, origono e ciliegino IGP che viene poi frullato e passato al setaccio. Grazie a tutti!